Giovanni Ignoffo, determinazione, concretezza e anche feroce, aveva chiesto tutto questo ai suoi ragazzi, è stato accontentato? Assolutamente sì, perché siamo stati bravi, oltre ad avere quel tipo di concretezza e cinicità sottoporta, anche ad avere quell'attenzione giusta e cercare nel momento della gara, dove abbiamo abbassato un po' il baricentro e ci sta perché fa parte del gioco, riuscire ad essere attenti a non prendere golle oppure farsi riprendere o riaprire la gara è stato determinante perché come poi si è visto il secondo tempo sul 2-0, gli spazi erano talmente tanti che prima o poi ci siamo riusciti sul calcio piazzato, lo spazio per andare a fare e chiudere la partita l'abbiamo avuto, l'abbiamo sfruttato, è frutto di un calcio d'angolo, però sullo sviluppo del calcio d'angolo c'era stata un'azione abbastanza corale per poter andare a rete e questo sicuramente deve essere una costante per il futuro perché sappiamo benissimo che questo campionato spesso quando si rompono gli equilibri e non riesce a subire gol, poi puoi riuscire a portare a casa la partita. Amet Fall, doppietta per lui, anzi stava quasi per portarsi a casa il pallone perché ha colpito un palo clamoroso. No, sono contento per Amet, sai gli attaccanti quando non fanno gol soffrono, vanno in depressione, quindi che lui abbia fatto gol e ne abbia fatto addirittura due, sbagliato un terzo, fa sicuramente piacere, la squadra ha lavorato bene per mettere le condizioni di far gol e lui è stato bravo a sfruttare le situazioni che gli sono capitate. Chieti sempre in crescita, è stato detto in questa settimana, a che punto siamo? Siamo a buon punto, dobbiamo continuare a lavorare per quello perché la crescita fa parte di un percorso che abbiamo avviato ad agosto, vedo continuamente cose migliori rispetto all'inizio ovviamente, crescono i giovani, crescono i grandi, cresce il gruppo, cresce la squadra e questo fa piacere perché significa che siamo sulla strada giusta. L'ultima su Balic, a che punto ha invece il suo recupero, la sua condizione? Balic sta cominciando a lavorare, sta facendo i primi lavoretti di avvicinamento a quello che è la riatletizzazione di un calciatore, speriamo di poterlo recuperare il prima possibile.